mia moglie è venuta qui perché deve controllare il territorio dove io allora ho chiesto come sta la capitana che comanda ha detto no sta calma puoi venire sicuro perché oggi non t'attacca perché ha visto me mi ha guardato negli occhi e allora mi è piaciuta tanto che ho comprato una zuppa inglese e mi sono comprato anche un cornetto capito? mi saluto perché va dal lavoro è venuta tua moglie e ha detto che il trampote fa fuori vale la pena venire qui e mangiare questa squisita zuppa inglese fresca fresca le piccole cose della vita sono queste guarda che meraviglia un caporavoro di Caravaggio